Oh, dai, oh! D'accordo, allora iniziamo. Oggi pensiamo ai nostri addominali. Passo e chiudo. Uno, due, tre, quattro. Salgo, salgo. Uno, due, tre, quattro, cinque, salgo, sei, sette, otto, avanti. Qui, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E alterno. Uno, avanti. Dico il passo puntato. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ed ora doppio, doppio, perché cambio. Qui, e due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Vantengo il passo puntato. E su, 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 uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Andiamo bene, otto e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, mi fermo. Qui, uno, due, tre, quattro, splezzo, cinque, sei, sette, otto, cambio. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e sblocco. Quindi torsione, torsione. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto ancora. Otto, torsione, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Lato, 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 un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto ancora. Un, due, tre, quattro, tre, quattro, cinque, sei, sette, cinque, cinque, quattro, tre, due e uno. Una spagna indietro e l'altra indietro con il passo buttato ancora. Otto, due, indietro, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Il contrario, Laura. Una spagna, otto, dove vado? La spagna, dove vado? La spagna, dove vado? La spagna. Ok, brava. Sette, fai niente, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Uno, bene. Lunge, lunge, passo e passo. Lavoriamo con gli addominali, semplicemente in questo modo. Fletto e allungo. Fletto, allungo. Uno, allungo. Due, allungo. Obliqui, tre, allungo. Quattro, allungo. Cinque, allungo. Sei, allungo. Sette, allungo. Otto, sì. Ancora otto. Sette. Sei, cinque. Quattro, quattro, tre, due, uno. L'abbioparte. E letto, allungo. Un, allungo. Due, e tre. Allungo. Quattro, allungo. Allungo. Cinque. Qui. Sei, sette. Otto. E ancora. Otto. Allungo. Sette. Allungo. Sei. Allungo. Cinque. Qui. Quattro. Quattro. Tre. Due. E uno. Ok. Ora, aumento l'affondo e tocco il piede con la mano apposta. Aumento l'ampiezza del movimento e tocco. Chiaramente ho una torsione da fare. Quattro, qui, due, qui, tre, qui, quattro, torsione, cinque, torsione, sei, torsione, sette, torsione, otto, qui. Ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Avvicino. Un po'. E salvo. Lavoriamo sempre con gli obliqui, semplicemente facendo una circonferenza. Arrascia una circonferenza da una parte, un'altra. On. Qui. Due. Giro. Tro. Un. Quattro. Tro. Tro. Cinque. Giro. Sei. Qui. sette due l'ultimo otto e ritorno qui qui otto tre quattro cinque sei bacino fermo bloccato glutei contratti otto sette sei cinque quattro tre due doppio e otto quinze due bacino bloccato tre quinze quattro cinque sei sette glutei contratti fermo il bacino non si gira guarda tu giri il bacino no fermo il bacino perché è proprio lì che lavorano gli addominali però bacino piega un pochettino le ginocchia ok d'accordo ancora quattro tre due due uno e stop ora andiamo con un crunch ma dai piedi qui lavoriamo solo con una gamba e porto il ginocchio il petto e le spalle verso il ginocchio solitamente noi siamo dritti questa volta invece ci chiudiamo d'accordo? se vogliamo possiamo anche senza forzare chiudo il più possibile vedete voi chi se preferite due tre quattro cinque sei sette otto e ascoltate un attimo perché non riesco a capire se esce adesso arrivo cambio cambio gamba adesso esce qui un due tre quattro tutto schiaccio cinque cinque sette cercate l'equilibrio scacciate il più possibile otto sentite gli addominali contratti contratti quindi rifacciamo un altro giro sì sì l'importante è che chi chiudiate il più possibile vado on qui due qui tre tre su su quattro cinque due tre sei sei sette otto sei sei quattro 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 cinque dec sei sei sette e otto ok bene Grazie a tutti.